Non soltanto note splendide strofe per il grande Gino Paoli, che a margine di un evento benefico nella sua Maremma si è infatti concessa da una chiacchierata fuori dai consueti schemi, toccando argomenti profondi quali i propri avi, l'amore, l'anarchia ed infine la politica, anch'essa declinata attraverso l'A di Andreotti e di alternanza. Fondamentale per alimentare quel gioco di forze che altrimenti finirebbe per fermare la costante tensione verso quell'equilibrio ricercato per tutta la vita dal cantautore di origine Maremmana. Io ho detto a mia moglie che quando morirò se parlano di me che gli spari. Mi sento normale, non mi sento un monumento come finiscono per considerarmi. Io sono di origine Maremmana, mio nonno era piegatore agli altiforni in Magona, mio padre era di Piombino e tutta la mia parentela di padre è tutta Maremmana, quindi mio nonno faceva l'olio, mio padre faceva l'olio e io faccio l'olio. Il Maremmana non fa grandi esternazioni, devi capire perché non è che uno ti dice come ti voglio bene, no, però lo senti. L'amore è il liquido in cui ci muoviamo, come i pesci si muovono nell'acqua. Poi l'amore è anche odio, l'amore è rancore, l'amore è tutto e niente. L'amore è una tensione, l'attenzione di Kierkegaard, di Nietzsche, l'attenzione verso qualcosa, come tensione dà disagio ma dà poi anche la voglia di vivere, cioè per raggiungere qualche cosa tu sei vivo, se invece non hai niente da raggiungere sei morto. Famiglia e amore, queste due parole per Gino Paoli sono coniugate ad una terza, quell'anarchia raccontata e cantata quando era bambino proprio dal nonno paterno Gino? Sicuramente, secondo me. L'anarchia è la figlia dell'educazione, della capacità di andare avanti, di avere tanti uomini decenti, se no è un'utopia, cioè se tu porti gli uomini a un certo livello non c'è bisogno di dirgli cosa devono fare, lo fanno da soli, perché la morale diventa una morale personale e tante morali personali fanno una morale vera, però se tu vuoi l'anarchia e non hai un popolo ancora a quel livello lì, l'anarchia è solo un casino. Il difetto che citava sempre Andreotti, quando un partito, una parte governa per tanti anni ha gli stessi difetti di qualsiasi altro partito. Il benessere di una regione o di uno Stato avviene attraverso il cambio continuo di due tesi, del riformismo e del conservatorismo. Questo è quello che regge tutti i paesi del mondo, quelli che vanno bene. In Italia ci sono troppi partiti e troppa poca identità, quindi sarebbe bene che passasse da una parte all'altra in modo che ognuno fa la sua parte da conservatore e la sua parte da riformista, perché è così che si fa, no? Se tu hai una casa che non va bene, che non sta bene, devi prima fare il conservatore, ci metti da parte i soldi e non devi fare spese, eccetera. Quando ce l'hai, allora è l'ora di rifare il tetto, eccetera, eccetera. E questo è il gioco che va bene anche per uno Stato, per una regione, per qualsiasi cosa. Quindi l'alternanza è quella che garantisce una sopravvivenza decente.